La partitura e gli spartiti 8.000 saranno catalogate nel corso del prossimo anno, addirittura 30.000 sono i nomi dei personaggi che hanno contribuito alla creazione di questi brani, tra compositori, arrangiatori, cantanti, cantautori, strumentisti, paroglieri e produttori. I loro volti popolano le copertine di questi esemplari, che raccontano la storia di un secolo e risultano essere documenti ricchi di storia, di iconografia, tanto vicini a noi da non essere considerati importanti, ma già abbastanza vecchi da essere cercati come rarità. Queste partiture sono rare, si scovano più facilmente presso i mercatini di modernariato o nei negozi vintage, in cui si vendono dischi in vinile e musicassette, piuttosto che nelle biblioteche, comprese quelle musicali. Invece, le registrazioni si trovano abbastanza diffusamente in internet e l'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi è dedicato alla canzone italiana del XX secolo un portale ricchissimo di contenuti, in cui si documenta la storia di un genere musicale che affonda le sue radici lontano nel tempo. Da sempre, canzone e canzonetta hanno cantato la storia e lo spirito dell'epoca che le ha create. Ogni città ha le sue canzoni, con le sue musiche e i suoi dialetti. Napoli canta da sempre e la sua canzone è frutto di poeti, drammaturghi e musicisti. Nel che salotti si canta narri e romanze, la canzone accompagna il ballo, canta la politica ed è un ottimo strumento propagandistico, canta la guerra attraverso gli inni patriottici, le canzoni dei partigiani e della resistenza. La canzone traccia la storia della società e narra la povertà dell'agricoltore quanto quella dell'operaio. Sopra questi diversi tipi di canzone, la canzonetta scivola con la sua leggerezza e la sua volontà di far sognare, destinata all'evasione dello spirito. Su questo repertorio però si misurano tutti i grandi interpreti, e non solo. Chiunque canta o canterella, accompagnando i gesti della vita quotidiana, da solo o in compagnia, con una chitarra o una fisarmonica, sulla riva del mare o intorno a un fuoco invernale. È proprio vero quando si dice canta che ti passa. L'idea che la canzonetta sia solo un genere leggero di evasione ha però costretto questa forma in uno spazio angusto. Nella sostanza però, essa è stata protagonista di un panorama straordinariamente vario quanto a luoghi e situazioni, marcando in modo inequivocabile ogni momento della storia, dal caffè Chantan, al Tabaren, Varietà, Ava Spettacolo, la rivista, l'operetta, le sale da ballo, la radio e il cinema. Nella seconda metà del ventesimo secolo irrompono poi il rock e roll, il boogie boogie, il twist. Nel 1951 la Rai lancia Sanremo, il festival della canzone italiana e nascono le prime sigle dei programmi televisivi. Non tarda a scoppiare la commedia musicale Made in Italy e si aggiungono poi i brani dei festival come il Cantagiro, il Festival Bar, in cui si mescolano note rock e pop. Negli anni della contestazione poi la canzonetta assume accenti politici e negli ultimi venti anni vede anche la contaminazione con stili internazionali come il rap e il reggae, assimilati dal panorama indipendente in maniera del tutto originale. Arriviamo poi alla canzone d'autore e alla nascita della figura del cantautore, che acquisisce quasi un ruolo messianico nei confronti del pubblico giovanile, che si rivolge a lui per trovare quelle risposte altrove negate. Alla fine forse non sono solo canzonette, perché alla fin fine nei sogni di un bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare e la voglia di volare forse è venuta proprio allora, forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va, perché sono solo canzonette. E la voglia di cantare e la voglia di volare forse mi è venuta proprio allora, forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Grazie a tutti!